ariatara rappresenta un buddha un illuminato un illuminata per meglio dire antecedente al buddha storico gautama buddha comunque rappresenta sempre una figura storica una percevuto l'illuminazione e rappresenta il simbolo dell'amore in quanto lei era molto amorevole verso verso tutte aveva una grande compassione e attraverso la compassione attraverso l'amore ha raggiunto l'illuminazione e attraverso l'amore dalla capacità di raggiungere l'illuminazione il suo mantra è om tare tutare tu re so ha che vuol dire om è il mantra completo che vuol dire corpo parola e mente e quindi vuol dire che attraverso il corpo la parola e mente di tara si può raggiungere velocemente l'illuminazione come avviene questa meditazione bisogna chiudere gli occhi ottenere gli occhi leggermente aperti visualizzare questo buddha verde femminile sul proprio capo con gli occhi chiusi appoggiato su un cuscino di sole di luna quindi sul nostro cerca del capo il cuscino di sole di luna rappresenta il principio maschile e il principio femminile uniti e visualizzarlo farlo scendere fare scendere questo questa immagine questa immagine con grafica al nostro cuore e poi con gli occhi chiusi e recitare il mantra om tare tutare tu re so ha so ha e la parte finale significa che così sia per fare questo dobbiamo prendere un una specie di rosario che può essere una cosa tipo questo mala e recitarlo un certo numero di volte 21 volte praticamente quindi chiudere gli occhi di fare la visualizzazione una volta visualizzato il buddha aria tara sul nostro capo farlo scendere al nostro cuore e iniziare la meditazione om tare tutare tu re so ha om tare tutare tu re so ha om tare tuta le so ha om tare Grazie a tutti. Om Tare Tu Tare Tu Reso Ha, Om Tare Tu Tare Tu Reso Ha, Om Tare Tu Tare Tu Reso Ha, Om Tare Tu Tare Tu Reso Ha. Questa meditazione, mantenendo sempre la visualizzazione centrata al nostro cuore, ci porterà a liberare il nostro chakra del cuore per poter vivere ed attrarre l'amore. Per questo video è tutto, vi do appuntamento al prossimo. Ciao.